Ciao a tutti, siamo i Magis of Lotus, benvenuti oppure bentornati nel nostro canale. Siamo vicini alla fine dell'anno, quindi è tempo di tirare le somme. Non è stata un'annata banale per Magic, innanzitutto perché appunto era il trentennale, quindi Magic quest'anno ha fatto trent'anni, tanti. E poi perché appunto sono successe veramente tante cose, sono stati fatti tanti annunci, molti cambiamenti, alcune cose anche un po' controverse. Adesso le vedremo una a una. Chiaramente ci sarà qualcosa di cui magari purtroppo non parlerò, qualcosa di cui o che io non ho reputato importante, oppure qualcosa di cui mi sono dimenticato. Quindi commentate pure il video dicendo magari appunto cosa appunto si può aggiungere a questo video e ne parliamo tramite commento. Allora, partiamo con una cosa super positiva, ovvero il ritorno del Pro Tour, e nello specifico quindi del Pro Tour in cartaceo. Quindi si è giocato face to face. Pro Tour che è stato fatto a febbraio a Philadelphia negli Stati Uniti e l'ha vinto un certo Red Duke. Tra l'altro Red Duke, grandissimo giocatore, ma non aveva ancora vinto un Pro Tour. E tutto questo mi è piaciuto. Cioè dopo tutta questa lunga pausa, lui, che comunque è un giocatore credo apprezzato da tanti, perché è sempre, come dire, l'apparvenza che sia sempre corretto, gentile e sportivo. E quindi secondo me è stato bello vedere vincere lui. Poi, altra cosa, nel 2023 sono partiti questi eventi qua, che si chiamano Magic Con o Magic Festival. In sostanza sono dei grossi eventi in cui ci sono dei tornei che ti qualificano al Pro Tour. Ci sono dei cosplay, ci sono delle aree per giocare Commander, ci sono degli ospiti, delle persone illustri del mondo di Magic. E inizialmente doveva essere solo appunto per il trentennale, ma in realtà hanno deciso di fare altri eventi come questo. Nel 2023, se non erro, ne hanno fatti quattro. Il primo appunto a Philadelphia, poi sempre negli Stati Uniti, a Minneapolis, poi uno a Barcellona e uno a Las Vegas, mi pare. Nel 2024 ne hanno già annunciati tre, in Europa sarà Amsterdam. Negli Stati Uniti sinceramente non mi ricordo, probabilmente qua in realtà c'è anche scritto. E tutti questi eventi a me piacciono, cioè purtroppo è probabile che non riesca ad andarci. Però l'idea che comunque Magic sia, nonostante appunto ci sia Magic Arena, comunque nonostante l'idea che Magic, scusate, sia un gioco, un'attività dove le persone si incontrano, viaggiano, è un qualcosa che mi fa un enorme piacere. Poi è stato anche l'anno di due banned list abbastanza importanti. Ad agosto hanno sbannato Preorden in Modern e Mind Desire in Legacy, ma soprattutto poco fa, a dicembre, hanno bannato in Pioneer Car, Razor, Fury e Beanstalk in Modern, e hanno sbannato Copter in Pioneer e hanno anche bannato in realtà la lancia rapida in Pauper. Allora, io sono, come dire, triste per il ban di Appraiser, ma non... cioè il ban ci sta, perché effettivamente è poco divertente giocare contro una carta che a turno 3 probabilmente vince la partita. Ma sono triste perché è un errore, cioè se tu banni una carta che è appena creata, che è uscita da poco, in realtà l'han creata probabilmente con un anno di anticipo, comunque se la banni, subito dopo appunto la sua legalità, vuol dire che qualcosa non è andato, cioè non... c'è stato un errore di valutazione a livello di game design, e quindi, come dire, se dovessi tirar le somme su cose positive e cose negative del 2023, il ban di Appraiser lo metterei tra le cose sicuramente negative, o meglio, non tanto il ban quanto l'esistenza della carta probabilmente, e della meccanica. Per quanto riguarda Karn ci può stare, Monogreen era dominante e tanto presente in Pioneer, ma soprattutto, appunto come hanno detto nel video, rendeva, come dire, le partite magari un poco divertenti, perché Karn dalla side ti prende tutto quello che ti serve, ciò nonostante, come avevo detto in un video passato, io forse avrei tolto Storm the Festival e non Karn, perché Karn magari puoi giocarlo anche in altri mazzi, che al momento non sono Tire, quindi vabbè. E Copter è stato uno sban molto importante, che ha portato cambiamento, e siccome lo porterà ancora, e quindi ci sta, è stato un bello sban. Del modern parlo poco, nel senso che non essendo un formato che gioco, riporto un po' quello che ho letto, quello che ho sentito, riguardo a Fury erano un po' tutti d'accordo, e Up the Beanstalk invece le persone si sono un po' più sorprese, ma forse perché era una carta abbastanza recente. E comunque, insomma, quest'ultima ballista è stata molto molto impattante, e molto anche, diciamo, chiacchierata. Poi, altra cosa fondamentale che è stata annunciata per il 2024 in realtà, l'introduzione delle Playboosters. Queste Playboosters andranno a sostituire, o meglio, saranno la fusione tra le bustine per draft e le set boosters. E quindi, scusate, le bustine, quelle con tante rare, non le collector, quelle più rare rispetto a quelle da draft. Quindi adesso si drafterà con queste, e ci sono due, diciamo, aspetti negativi che abbiamo, che ho già sottolineato in un video che ho fatto in passato, perché sì, comunque ragazzi, queste cose che vi farò vedere adesso, cioè tutte queste cose successe nel 2023, praticamente quasi tutte, di quasi tutte ne abbiamo parlato durante l'annata. Adesso questo è un recap. Quindi se volete magari avere, come dire, informazioni più specifiche, o sapere la nostra opinione in maniera più dettagliata, magari andate a ripescarvi i video. Magari commentate pure e vi lascio io poi il link della questione che volete approfondire. Comunque dicevo, la cosa negativa è in sostanza che draftare costerà di più, perché appunto in queste bustine potete trovare più rare e mitiche, ci sono più slot, ma non è detto in realtà che ne troviate di più. E poi che il sealed sarà un po' sbilanciato, cioè c'è il rischio che sia sbilanciato, perché appunto ci sono potenzialmente tre slot in più per rare e mitiche, e quindi questo rischio c'è. Quindi anche questa la metterei tra le cose purtroppo negative. Poi, Timeless, nuovo formato per Magic Arena, in cui sono legali tutte le carte presenti in questo server. E' molto, secondo me, positivo. Inizialmente non avevo colto troppo l'utilità, essendosi comunque già tanti formati dentro Magic Arena, ma poi ho pensato che può essere il formato, secondo me, che, come dire, unisce, cioè che avvicina i giocatori proprio di generazioni diverse. cioè perché magari ci sono quei giocatori di Legacy, di Vintage, che sono curiosi di provare appunto un formato dal power level altissimo. E allo stesso tempo ci sono magari i noviti che dicono io non posso giocare Legacy perché non ho voglia, come dire, di giocare cartaceo, e perché anche costano tanto le carte, e perché non ho voglia di giocare su Magic Online. Quindi posso comunque giocare un formato dal power level altissimo su Arena. E quindi, secondo me, ci può essere questo incontro. Quindi veramente positivo come formato. Tra l'altro, adesso so che sta andando tanto, io non lo sto giocando, però veramente positivo. Adesso vedremo, diciamo, se sarà una moda. Io non credo, cioè sicuramente adesso è un po' di moda, ma credo che comunque sarà sempre giocato con costanza. Poi abbiamo un'altra cosa fondamentale successa quest'anno, ovvero la presa di coscienza, diciamo, la consapevolezza da parte della Wizard, del fatto che lo standard da un po' di tempo non stia andando così bene. Cioè non piaccia ai giocatori, quindi è un formato poco giocato. Quindi hanno provato, e proveranno, perché questo è solo uno step, a farlo tornare popolare. Come, per adesso, hanno allungato la durata dei set da standard. Cioè la rotazione non sarà ogni due anni, ma ogni tre anni. E questo è un buon punto di partenza. perché appunto ci sarà un pool più ampio, tu sei più motivato a magari investire in certe carte, investire in senso, cioè, che le compri per giocare, ma ti durano tre anni anziché due, quindi in te lì appunto sei più motivato. E secondo me non è solo questo il problema, però come punto di partenza ci sta. Dopo, quando parleremo di altre cose del 2023, vi dirò magari cosa, secondo me, farà la Wizard. Comunque, le somme la Wizard le tirerà, credo, ad aprile-maggio, riguardo a questa, l'efficacia di questa scelta. Al momento in Tria non ci sono stati troppi cambiamenti, però non è che possiamo, insomma, aspettarci che dopo tre, quattro mesi cambino subito le cose. Vedremo appunto col 2024 che ci saranno anche appunto, ci sarà la stagione standard e quindi lì, insomma, sarà importante vedere appunto se i giocatori continueranno a snobbare o meno questo formato. Poi abbiamo, sì, questo anche, nel 2023 è stata introdotta una nuova tipologia di carte, le Battle, e in sostanza sono dei permanenti che quando entrano in gioco noi li assegniamo a un avversario e questi permanenti hanno una non costituzione, cioè hanno, diciamo, dei segnalini, non mi ricordo come si chiamano, comunque sono dei segnalini che noi appunto, con i danni da combattimento, o anche con delle magie o comunque degli effetti che fanno danni, però ci deve essere proprio la specifica a Battle, possiamo appunto, come dire, togliere questi segnalini e poi casteremo gratis la spell flippata. E quindi questo è stato un'introduzione, sì, probabilmente non è stata così rivoluzionaria, cioè, inizialmente anche in Modern si giocavano tante carte, due, tre carte Battle, adesso non si gioca neanche più Invasion of Gobakan in Pioneer, per dirvi che probabilmente è la Battle più forte, però comunque sono contento e ne faranno anche altre. Allora, poi, ecco qua, abbiamo forse la questione, una delle più controverse, che in realtà questa non è del 2023, perché questo prodotto è stato annunciato a ottobre, mi pare, novembre 2022, però comunque è stato fatto per il trentennale, cioè per i trent'anni di Magic, e quindi mi sono sentito di metterlo appunto in questo video. In sostanza queste sono, questo prodotto consiste in quattro bustine, dove dal modico prezzo di mille, facciamo anche, arrotondiamo, andiamo a ribasso, a mille dollari, sono però, trovate delle carte proxy, tra l'altro mi pare ne trovate quattro, vediamo, qui c'è scritto tutto, comunque trovate un po' di carte proxy, tra cui appunto il Black Lotus, c'è tutta la P9, eccetera, eccetera, e inutile dire che il prezzo è incredibilmente alto, le carte appunto non sono legali, è collezionismo, ma collezionismo di un prodotto, sì ufficiale, però c'è che in tirare non puoi giocare, quindi non lo so, però non è che voglio proprio dare un giudizio, e l'unica cosa appunto che volevo dirvi è che questo prodotto, se leggiamo anche la descrizione, è stato fatto appunto festeggiare, no? Magic, le feste però si fanno assieme, cioè si fanno con tante persone, se tu mi proponi un prodotto con questo prezzo qua, non è proprio una festa così inclusiva, cara Wizard, quindi, insomma, questa probabilmente è stata una delle notte più negative di questi ultimi due o tre anni, cioè, per me è la più negativa forse in assoluto, anche se fra un po' ne vedremo un'altra che non mi ha fatto troppo piacere. Poi, andiamo avanti, e qua un piccolissimo cambiamento, praticamente, dall'edizione in cui è uscito Ashok, quindi dall'ultima Hail Drain, in sostanza, ci sarà solo un Planeswalker per set, e allora, può sembrare un cambiamento banale, ma secondo me, sta a indicare in realtà un avvicinamento, cioè un dar sempre più importanza agli Universi Beyond, mi spiego, e nelle collaborazioni appunto Jurassic Park, Signore degli Anelli, Doctor Who, eccetera, eccetera, chiaramente non ci sono i Planeswalker, perché i Planeswalker sono dei personaggi specifici della storia di Magic, quindi non puoi farmi diventare Gandalf, un Planeswalker, e per fortuna non l'hanno fatto, e quindi in sostanza, togliere questi, cioè limitare questi Planeswalker, secondo me, è un po' come dire, metto, ci metto a livello di lore, a livello di, come dire, di letteratura, di trama, insomma, ci sarà un po' meno multiverso Magic, e invece il focus sarà secondo me sempre di più su gli universi come appunto Star Wars, Dragon Ball, eccetera, eccetera, e non è che magari sarà così in eterno, però diciamo che nei prossimi due, tre anni, ma anche di più, credo che la Wizard darà tanta, tanta importanza agli Universities Beyond, dopo vi dirò anche come. Allora, andiamo avanti e parliamo di Aftermath, questo prodotto qua molto particolare, in sostanza, perché l'ho messo tra le cose del 2023 importanti, perché appunto sono delle bustine, cioè questo è un set con pochissime carte, con un pool molto limitato, e sono bustine non draftabili, dove ci sono dentro appunto un, due, tre, quattro, cinque, dove ci sono dentro sei carte e è stato un esperimento, hanno detto che non lo riproporranno più, in realtà secondo me non era così male in ottica standard, perché queste carte qua di questo set, aspetta, ve le faccio anche vedere brevemente, ma probabilmente le conoscerete già, eccole qua, queste carte qua sono legali in tutti i formati, quindi anche in standard, secondo me in realtà non era così male per lo standard, cioè l'idea di fare ogni tot un po' di carte per rimescolare un po' il meta, però non lo faranno più, quindi peccato, ma secondo me perché faranno altro non con appunto la Lordy Magic, ma anche per lo standard, dopo vedremo. poi ecco qua, allora sicuramente il 2023 è l'anno delle collaborazioni, cioè oltre che essere il compleanno di Magic, il trentennale appunto di Magic, l'ho ripetuto tre volte, lo so, è anche l'anno delle collaborazioni e c'è stata quella che secondo me sarà per sempre la collaborazione più importante di tutti i tempi per Magic, che è stata appunto quella col Signore degli Anelli. Allora, set fantastico, limited veramente stra divertente, disegni alcuni belli, alcuni meno, ci sono state un po' di questioni controverse riguardo a certi canoni dei personaggi non rispettati, ma di qualsiasi cosa, se si guarda proprio il pelo nell'uovo e tutto troviamo qualcosa che non ci piace. Nel complesso io credo veramente che sia veramente difficile non aver apprezzato e non continuare ad apprezzare questo prodotto qua, qua parliamo della prima stampa e non possiamo tra l'altro non parlare di The One Ring limitato uno di uno scritto nella lingua nera. carta appunto che ha trovato un canadese se non erro e poi appunto la venduta a Post Malone per il modico prezzo di 2.6 milioni di dollari per una carta di Magic quindi questa qui The One Ring in questa versione qua è la carta appunto che ha avuto appunto il prezzo più alto in una vendita e io sono d'accordissimo con cioè sono contento che la Wizard abbia fatto questa carta qua in una copia e che ci sia stato tutto questo tutto questo parlare e mi è piaciuta molto la vicenda e ovviamente io non ho provato a trovarlo cioè non ho comprato il Collector però mi è piaciuto tanto cioè pensare appunto a chi appunto chissà chi lo trova chissà cosa farà chissà se non viene mai trovato e sono stati veramente bravi perché veramente hanno sono riusciti siccome a proprio a trasportare a intrecciare bene le due letterature quindi veramente ottima cosa da parte della Wizard un po' meno ottima anzi ottimissima anche questa cioè le carte disegno o meglio le carte quadro del Signore dei Anelli cioè quindi determinate carte che messe a punto assieme formano dei quadretti e spoiler questo mio secondo me questi quadretti qua long term sono le carte di questo set che vale su cui vale più la pena investirci chiaramente non mi riferisco alle comuni ma mi riferisco alle alle mitiche e alle rare se non sono in lingua italiana secondo me meglio ancora perché scusate se non sono in lingua inglese meglio perché per esempio io preferirei avere questo quadro qua in italiano un tedesco credo che preferirebbe averlo in tedesco perché il Signore dei Anelli è un qualcosa che va oltre Magic è un qualcosa che come dire ci ha appassionato che può essere una qualsiasi collaborazione ovviamente però tendenzialmente l'abbiamo guardato nella nostra lingua e quindi lo sentiamo più nostro se appunto la lingua è la stessa è la stessa appunto con cui l'abbiamo guardato a parte questa cosa qui vi faccio vedere giusto un po' di carte perché appunto il Signore dei Anelli non è solo divertimento limited non è solo collezionismo vi faccio vedere alcune carte che hanno impattato tantissimo tutti i formati in cui sono legali Bowmasters Lorien questa è entrata in tutti tutti i formati incredibile questo comune e il Troll di Cazandum e The One Ring e Casting to the Fire adesso si vede un po' di meno in realtà e Halfling queste diciamo sono le carte principali allora veniamo alla nota negativa di questo prodotto qua o meglio della ristampa allora hanno fatto appunto questa ristampa che in teoria doveva essere con art con disegni quindi diversi e effettivamente ci sono dei disegni diversi e magari possono piacere o non piacere a me piacciono e qual è il problema? il problema è che hanno ristampato anche queste carte qua e adesso vi dico vi leggo perché è un problema adesso leggerò perché è un problema allora queste carte qua che si chiamano carte bonus qui ci diceva allora si possono trovare in versione non foil è andata foil aspetta no allora allora ok queste buste bonus quindi che si riferisce alle buste dentro i box sono le uniche in cui è possibile trovare le versioni foil di queste carte qua che sono tipo una trentina mi pare ok che si chiamano surge foil quindi presentate a giugno il signore di anello è uscito a giugno quindi sparo a marzo aprile sarà uscito appunto questo articolo qua in cui dicevano che queste carte qua erano quindi molto molto rare nella versione foil poi cosa succede che a novembre esce un nuovo prodotto del signore di anelli quello che vi ho fatto vedere prima con in teoria le art diverse ma cosa dice torneranno anche le carte bonus dei reami reliquie quella che vi ho visto prima potrai anche trovare le versioni foil di queste materie stampe quindi in sostanza da prodotto rarissimo diventa un prodotto che invece si trova più facilmente nella ristampa e guardate qual è stata la conseguenza che appunto adesso prendo la grotta delle anime perché in una live Mark aveva preso questo come esempio quindi mi ricordo ma sono sicuro che è così per tutte le carte di questa tipologia e guardate cioè guardate quanto è scesa da 400 da 300 euro è passata a 60 70 euro e ci sono 138 copie che non sono tantissime però comunque insomma non è così speciale come prodotto tra l'altro hanno fatto anche la versione serializzata e quindi sì queste versioni qua che dovevano sembrare così speciali in realtà non lo sono affatto quindi qua c'è stata secondo me un pochino una presa in giro magari anche non voluta hanno calcolato ma non hanno calcolato determinate cose non lo so allora comunque fatto sta che questa cosa qua non mi è piaciuta poi altra cosa che hanno annunciato è Modern Horizon 3 per il 2024 quindi aspettiamoci un grosso cambiamento nel Modern che quindi non deriverà da dei ban o dagli sban ma appunto da un insieme di carte che stravolgeranno tutto proprio come fece Modern Horizon 2 allora come dicevo prima questo è sicuramente l'anno della collaborazione adesso citiamo le principali c'è stata quella con Jurassic World quindi purtroppo non con Jurassic Park ma io dico purtroppo perché essendo dell'89 appunto ho come dire nel cuore e in testa i primi due film e non gli altri anche se in realtà quello che ho avuto più incassi ho letto è stato uno di quelli successivi quindi non non appunto uno dei primi due poi appunto ci sono state le collaborazioni con Doctor Who ecco quella con Doctor Who in realtà non mi è piaciuta troppo perché secondo me hanno fatto troppe carte cioè tipo Jurassic World hanno fatto una trentina di carte qua invece hanno fatto proprio un set dedicato non vasto come il Signore dei Anelli però veramente vediamo se ecco qua no vediamo se sì ecco qua cioè sono veramente tantissime carte e secondo me cioè capisco che sia soggettivo eh cioè sicuramente soggettivo uno può apprezzare il Signore dei Anelli può apprezzare il Dottor Who io apprezzo il Signore dei Anelli però non lo so credo che comunque ci siano dei dati per stimare quanti fan ci sono di un brand piuttosto che di un altro secondo me qui hanno fatto veramente troppe troppe carte e poi torniamo sempre alla questione degli Universi Beyond appunto hanno annunciato anche Fallout per il 2024 Assassin's Creed sempre 2024 Final Fantasy in 2025 e ok e poi manca forse la seconda più importante di tutti di tutte le altre dopo il Signore dei Anelli ma oddio in realtà a livello di numeri forse la Marvel potrebbe anche battere Lord of the Rings dipende dipende cosa faranno sicuramente ci saranno anche quali serializzate effettivamente si la Marvel può essere più grossa del Signore dei Anelli e questa è stata una notizia bomba che è andata appunto a ottobre e ve la dico secondo me io sono abbastanza certo che con Final Fantasy e con Marvel e faranno anche altre ovviamente altre collaborazioni Universis Beyond cosa succederà allora o faranno un formato dedicato cioè dove si possano giocare solo le carte Universis Beyond oppure siccome ancora meglio le renderanno legali nel formato standard e potrebbe essere siccome un ottimo modo per portare hype allo standard e tra l'altro col meccanismo dei secret layer potrebbero appunto fare quello che magari hanno provato a fare con Aftermath cioè ogni tanto fanno uscire dei prodotti non so 8-10 carte ma anche meno che però magari possono cambiare tanto il meta mettere delle risposte delle minacce che sono forti contro le risposte che si giocano possono veramente far di tutto e secondo me se tu adesso porti questi personaggi dentro lo standard lo standard vola quindi questa è la mia idea e secondo me appunto è anche per quello che hanno limitato un po' i planeswalker cioè un po' per tornare alle origini forse che in realtà è un po' la cosa opposta rispetto alle collaborazioni nel senso che una volta non c'erano i planeswalker e ma secondo me è proprio anche per rendere un po' meno importanti i personaggi di magic cioè adesso certo dicono che siano più importanti per dare più importanza alle creature leggendari ma boh così così ma siccome invece è proprio per far sì che vengano percepiti maggiormente questi personaggi qua che faranno con cui faranno le collaborazioni e chiudo parlando del tricolore che ai mondiali appunto che si sono fatti quest'anno a Las Vegas ai mondiali di magic è arrivato in top 8 un ragazzo italiano giovanissimo tra l'altro di 18 19 anni mi pare Lorenzo Terlizzi a cui abbiamo già fatti i complimenti ma li rifacciamo e niente queste sono diciamo notizie positive anche poi vedere che comunque ne parlano di tutto sport non è proprio il mio giornale preferito però comunque fa sempre piacere insomma vedere che certe notizie non si trovano solo nel sito della Wizard o magari in altri siti nerd ma insomma anche in altri tipi di tipologia di giornali bene e vi ringrazio se avete seguito fin qua ci vediamo alla prossima e colgo l'occasione per augurare a tutti un buon anno buona fine e buone inizie ciao ragazzi ciao 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 ciao